I volontari di Plastic Free hanno ripulito le spiagge di Castel Volturno, rimosse centinaia di sacchi di rifiuti. Pasquale Piscitelli. Plastic Free! Spiagge pulite! È lo slogan della corazzata ambientale dell'Associazione Nazionale di Plastic Free. Dopo la grande partecipazione del 25 aprile alla foce del Garigliano con ben 400 volontari, si replica a Castel Volturno. Come trofei i sacchi di rifiuti trasportati con orgoglio sui trattori. Siamo più di 450 persone, tutti uniti con l'unico scopo, ovvero quello di portare una rinascita in questi territori abbandonati. Dobbiamo cercare di preservare quello che è nostro, ma dobbiamo farlo noi, perché nessuno lo farà per noi. Un'altra raccolta record dei nostri scarti, abbandonati lungo 5 km di spiaggia, tutti soddisfatti. Oggi fortunatamente ancora più volontari, sfortunatamente ancora più materiale raccolto e tra le cose ritrovate, possiamo sempre citare purtroppo le stesse fonti, quindi materiale per l'agricoltura, polistirolo, bottiglie di plastica. Tutte le raccolte plastic free sono concordate con i comuni in cui si svolgono, per cui al termine c'è la ditta dei rifiuti del comune di pertinenza che provvederà alla raccolta e allo smaltimento. Come avviene in ogni raccolta da quando opera plastic free su tutto il territorio? Io sono veramente, come dire, emozionato da questa attività, soprattutto ambientale, che c'è l'attenzione che c'è dei ragazzi su Castel Volturno. Quindi avanti così, che diciamo sono dei piccoli passi. E' il popolo giovanile che diventa cittadinanza attiva contro gli inquinatori seriali delle nostre coste. Una lunga e bella spiaggia ripulita nella speranza che rimanga così sempre.